c'è più e questo è un problema perché eccolo non ci vedo più in diretta streaming siamo in diretta perfetto prego perché eccolo non ci vedo più in diretta streaming tanto per non mettere un po d'ansia ciao buonasera a tutti e tutte quindi comincia Mauro io dico alcune cose intanto voi prenotate sulla chat prenotate le domande alcune cose intanto voi prenotate c'è un eco delle cose che dico io e soltanto chi non parla per caso di chiudere il microfono perché altrimenti ritorna l'audio allora mi sembra che ovviamente una constatazione inevitabile che è un argomento estremamente attuale per cui da questo punto di vista come dire è proprio appunto dell'approfondimento di là poi dei punti di vista che ognuno di noi può avere è la chiave diciamo di lettura giusta da avere in questa in questa occasione io dico alcune cose molto rapidamente che come dire che me rappresentano un po come mi sembra vada interpretata la dinamica più che i specifici in realtà noi stiamo dentro un passaggio d'epoca che è simile e diverso da quello del 91 noi arriviamo a questa situazione però scusate c'è qualcuno che sta in onda in onda online e arriviamo con diciamo dopo una fase che dura a 30 anni dal 91 a oggi e c'è un cambio con varie fasi perché per esempio sicuramente stiamo a fare una fase di affermazione della globalizzazione la crisi del 2007-2008 ha dato uno stop e poi diciamo si sono invertite un po' le tendenze per cui io credo che questa sia un punto è un punto di partenza un punto di lettura una modalità di lettura che secondo me va tenuto conto dunque un ciclo lungo chiamavano l'apertura di un ciclo la chiusura e l'apertura di un ciclo lungo qual è l'elemento che caratterizza questo ciclo sicuramente ci sono gli aspetti specifici nel senso specifici tra virgolette passatemi il termine la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa eccetera eccetera però il dato di fondo almeno per quanto mi riguarda mi sembra è quella della rottura della mondializzazione prodotta dal motivo di produzione capitalista in questo trentennio cioè potremmo dire la frammentazione del mercato mondiale questo elemento soprassiede anche alle politiche degli Stati nel senso è vero che ogni Stato ha la sua progettualità e soggettività però è pure vero che questa progettualità e soggettività non è una cibra è condizionata da questa rottura del mercato mondiale dal fatto che in modo di produzione capitalista ha avuto uno sviluppo di lungo periodo adesso la crisi, l'impossibilità di questo ulteriore sviluppo genera contraddizioni all'interno diciamo dei paesi all'interno dell'ambito internazionale in oggi in cui prevalentemente ha usato il modo di produzione capitalista poi entrerò magari al meglio di queste cose se c'è un uso o se è la natura dei paesi stessi per cui da questo punto di vista credo che le dinamiche si stanno mettendo in moto nascono proprio da questa difficoltà che è una difficoltà oggettiva per tutti quanti questo va sempre l'elemento diciamo che va tenuto a tutto ovviamente, probabilmente dovremmo tenere conto della tempistica cioè noi siamo all'inizio di una fase che non so se sarà lunga, altri trent'anni o meno però è chiaro che questi sviluppi vanno visti dentro una dinamica non di breve periodo per cui avremo una fase abbastanza lunga in cui queste contraddizioni si manifesteranno non so se diverranno guerra in tempi brevi o no io su questo penso che è difficile fare previsioni, forse impossibile però sicuramente nell'affrontare questa dimensione dei problemi credo che dobbiamo avere presenti i tempi di questa dinamica che non saranno dissimili dalla fase precedente un'ultima questione che dico e poi chiudo per essere estremamente sintetico però non vedo prenotazioni in chat per cui se si vuole intervenire invito sicuramente la rottura del mercato mondiale ha prodotto un cambiamento delle condizioni della costruzione dell'Unione Europea questo è un dato oggettivo nel senso mentre prima l'Unione Europea si poteva concepire come un soggetto che agiva su uno spazio piano nel senso che poteva fare scelte e progettare in una condizione diciamo tra virgolette non di parità però di mercato mondiale in cui non c'erano confini, non c'erano rotture, non c'erano separazioni questa rottura oggi modifica la condizione dell'Unione Europea la quale deve ritornare in un ambito che è quello precedente, cioè quello euro-atlantico oggi l'Unione Europea è costretta a ristabilire rapporti io penso che l'Unione Europea è sempre un soggetto comunque a stabilire rapporti dentro l'ambito euro-atlantico e cioè gli Stati Uniti però qui c'è un problema perché è vero che poi si è sollevato, diciamo, anche nell'Ira è vero che l'Unione Europea deve fare un passo indietro rispetto ai suoi progetti di sviluppo autonomo di forza imperialista autonoma però pure noi gli Stati Uniti non è che stanno tanto bene cioè questa cosa avviene in un contesto non è che si ritorna alla fase precedente l'Unione Europea fa un passo indietro ma in un contesto in cui gli Stati Uniti se si toglie lo strumento militare stanno in piena crisi di egemonia molto male che stanno le elezioni di midterm per cui già a Petrion mi sembra che le vicende di Trump quella sorta di conflitto, di guerra civile interna che c'è stata nel passato ecco per cui diciamo è una fase estremamente interessante proprio perché gli elementi di riflessione e di analisi sono tanti credo che appunto noi dovremmo vedere questa cosa come valutazione, analisi del contesto ma pure dentro una dinamica che si sviluppa nel tempo per quanto mi riguarda più di questo non mi sento da dire lascio la parola agli interventi e vedo che si è prenotato Ernesto Screvanti abbiamo detto che procediamo per domande o comunque per interventi brevi in modo che diamo spazio alle risposte prima ascoltando Roberto Musacchio che guiderà le introduzioni ai temi va bene sì avevamo detto un po' così nel senso che questa cosa di Mauro peraltro è molto utile e molto interessante perché entra già come come si può dire come discussore rispetto al libro di cui consigliamo anche a chi ci ascolta l'acquisto e la lettura perché ci aiuta ma ora già prerisposto a un paio di tesi importanti, significative io come ci eravamo detti vorrei provare a condurre questa conversazione con Fiammetta, Salmoni che è l'autrice del libro Guerra o Pace, Stati Uniti, Cina e l'Europa che non c'è articolando appunto per te considerando che la parte introduttiva è dedicata precisamente alla definizione di impero, imperialismo insomma termini che richiedono anche conoscenza, approfondimento il libro è molto ricco anche dal punto di vista delle note di accompagno c'è una ricchissima bibliografia, una ricchissima serie di citazioni quindi aiuta molto da questo punto di vista e questo è un po' il primo tema che poi si va a congiungere con quello che è l'ultimo capitolo del libro cioè la vicenda di Tucidite cioè il rischio dello scontro della guerra che era riferito in Tucidite naturalmente Atene e Sparta Atene crescente che va a occupare lo spazio che era occupato da Sparta e quindi uno scontro interimperialista avremmo detto allora che portò poi lì alla fine sostanzialmente della stessa Grecia cominciato, guardate un po', diciamo nell'appoggio a guerre altre che i due stati principali greci in quel momento davano però andrei per ordine perché già questa definizione di impero-imperialismo è molto interessante e infiammetta vorrei un po' con te ripercorrere, insomma ti chiederei un po' perché ci sono diversi elementi anche identitari l'imperium come necessità di comandare innanzitutto al proprio interno ma poi questa espansione come funzione che diventa una funzione in sé tu evidenzi numerosi fattori che sono anche quelli identitari, quelli religiosi d'altronde siamo di fronte a sistemi in cui ad esempio il confucianesimo nella Cina oppure l'ideologismo neoliberale oppure anche le nuove forme cattoliche reazionarie che attraversano sia la Russia che gli stessi Stati Uniti però mi pare che prevalente alla fine sia questa idea che l'imperialismo accompagna sostanzialmente lo sviluppo economico e quindi ti rifai un po' le cose che ci ha proposto Mauro inizialmente rispetto a questo ti chiederei un po' di raccontare e la mia domanda è precisamente questa insomma di fronte a questo livello raggiunto dalla globalizzazione possiamo parlare come dice Mauro di una rottura ormai di questo processo c'è in qualche modo un appartenere tutti al sistema capitalistico unificato che mantiene il suo carattere imperiale complessivo e poi articolato dentro questa potenziale dinamica tucidite ecco quindi grazie sia a Mauro che a Roberto ovviamente diciamo che questa è la parte più complicata è stata la parte più complicata del libro anche per me da scrivere perché vabbè io da costituzionalista ho lavorato soprattutto sulle fonti quindi ho cercato di esaminare le fonti e poi di trarre le conclusioni e ovviamente per un argomento come questo non era non è stato sufficiente me ne sono resa conto mentre scrivevo il libro non era sufficiente andare al testo normativo oppure per esempio i vari discorsi ufficiali che sono stati fatti negli Stati Uniti dai vari presidenti degli Stati Uniti o nei congressi del PCC e quindi mi sono dovuta attrezzare approfondendo questo bagaglio filosofico teorico storico sull'imperialismo e lì ho scoperto l'acqua calda nel senso che alla fine è praticamente impossibile dare una definizione univoca ad imperialismo perché da quando è nato il mondo ci sono stati che sono stati definiti imperialisti a seconda che se avevano una caratteristica dominante oppure no di fatto io a quel punto ho cercato di capire quale fosse un po quale fossero le il filo rosso che univa tutti questi paesi che ehm sono stati grandi imperi nella storia del mondo cioè dalla addirittura dall'antica Roma eh per ovviamente per arrivare a tempi più moderni la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e poi io dico anche la Cina e questi tratti comuni in realtà sono appunto innanzitutto una volontà di potenza che eh è proprio insita nel nello Stato eh che tende a espandere i anche se non territorio non solo territorialmente ma anche solo economicamente e commercialmente i propri confini eh quindi un espansionismo che è legato all'egemonismo e cui eh chiaramente fa anche da indispensabile corollario eh il militarismo per certi versi e quindi eh il connesso sviluppo degli armamenti e dell'industria bellica eh che sono veramente presenti eh in tutti gli stati dove questa eh questa tendenza all'egemonismo si avverte poi c'è il nazionalismo eh che è un'altra caratteristica comune eh nazionalismo e quindi direi ehm esaltazione della non voglio parlare di sovranismo perché ehm sovranismo ha assunto una un connotato negativo ma esiste anche un sovranismo cosiddetto democratico eh quindi eh il suffissoismo gli dà una una colorazione negativa ma non è detto che l'esaltazione della sovranità in quanto sovranità dello Stato io per esempio sono una statalista convinta e quindi mi mi si potrebbe dire che sono una sovranista ma in realtà sono una sovranista che sono una persona che eh crede nella sovranità statuale crede ancora che oltre lo Stato non ci sia ancora niente dal punto di vista ehm concettuale eh giuridico concettuale perché ciò che si è provato a costruire con l'Unione Europea è ancora un 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 ibrido non è né carne né pesce e anzi tecnicamente siamo ancora in un'organizzazione internazionale sia pure con alcune peculiarità quindi eh ripeto il il nazionalismo unito a eh questa accentuazione della sovranità eh l'uso ad arte anche della propaganda e poi dominante sempre c'è eh questo tratto economico eh come dicevate voi questo eh la caratteristica economica di eh volontà di eh egemonizzare economicamente il resto del mondo è presente eh in tutti gli stati eh cosiddetti imperialisti e in particolare eh proprio in quanto si tratta di volontà di eh egemonizzare di espandere le proprie zone di influenza dal punto di vista economico eh le l'economia dell'imperialismo è quella del libero scambismo e del capitalismo e mh questa eh sono arrivata alla conclusione a questa conclusione perché ehm queste eh questi stati eh cercano di conquistare nuovi mercati per 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 varie ragioni ehm so ma diciamo in particolare specialmente nel mondo di eh nel mondo attuale per eh conquistare nuovi mercati eh che fungano anche da sbocco per le eccedenze di produzione eh interne eh e anche per quelle eh finanziarie per l'utilizzo di manodopera a basso costo eh per l'esportazione dei capitali e via dicendo eh la globalizzazione io ehm sono arrivata alla conclusione che eh la globalizzazione è è fluida cioè tutti eh tutti la globalizzazione non c'è più ma è dappertutto nel senso che eh c'era eh questo unipolarismo statunitense che eh la Cina ha eh sicuramente da un certo momento in poi eh da dall'avvento al potere di Xi Jinping in poi ha cercato di contrastare però la Cina e gli Stati Uniti sono legati a doppia mandata l'uno all'altro e quindi la globalizzazione fa comodo agli Stati Uniti la globalizzazione fa comodo alla Cina per cui ehm questa globalizzazione che in realtà si basa sul eh sul capitalismo e sulla libera concorrenza ehm non è finita ma ripeto è finita ma non è finita cioè a me piacerebbe parlare di internazionalizzazione invece non ci si riesce più cioè non ci spariamo tutte le cartucce adesso nel senso che se no diciamo immediatamente lo spoiler di come finisce il libro e invece continuiamo su questo tema magari c'era Ernesto che voleva intervenire io Ernesto lo temo perché ce ne avevamo parlati al telefono no 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 eh hanno il libro e poi Giovanni ha alzato il dito ehm no tra l'altro il libro è molto bello e molto importante e utile e c'è una quantità di di temi e di problemi sollevati che? che rende veramente difficile intervenire ehm un dibattito come questo per cui mi concentrerò su un argomento ahm di posto specifico ma che credo importante importante, e cioè su un aspetto del neoimperialismo della Cina, che è una cosa di cui tu parli giustamente, c'è questa tendenza. Come potrebbe configurarsi questo neocolonialismo della Cina? Tra l'altro tu giustamente fai notare che mentre l'ideologia ufficiale del Partito Comunista Cinesi è quella di un socialismo con caratteristiche cinesi, in realtà quello che si è verificato è l'instaurazione di un capitalismo con caratteristiche cinesi e di un neocolonialismo con caratteristiche cinesi. Ora, quali possono essere queste caratteristiche cinesi a livello, diciamo, di imperialismo? Ovviamente c'è la sfida nei confronti degli Stati Uniti e gli Stati Uniti la percepiscono come tale. è una sfida che è nell'ordine delle cose, nell'ordine dello sviluppo industriale cinese che non può essere avversato e che prima o poi, anzi piuttosto prima che poi, porterà la Cina a superare gli Stati Uniti in una produzione, in PIL, in una serie di altri parametri che sono importanti. Ecco, quello che vorrei discutere è questo argomento qua. La Cina tende a sostituire gli Stati Uniti creando un nuovo tipo di imperialismo unipolare oppure tende a sostituire il sistema unipolare degli Stati Uniti con un sistema multipolare che è la tesi ufficiale che loro sostengono. Poi bisogna vedere quanto c'è di vero una tesi ufficiale. In realtà la loro idea, mi sembra di capire, è che si dovrebbe andare verso un sistema tripolare, cioè Stati Uniti, Europa e Cina sostanzialmente gli Stati Uniti. In questo ambito è molto importante il ruolo dello yuan perché uno dei fattori fondamentali della potenza di un impero è la moneta, è la capacità di mettere la moneta internazionale. Ora a me sembra che su questo piano la Cina sia piuttosto debole, soprattutto su questo piano, cioè che non sia in grado di sostituire il dollaro con il yuan, come alcuni sostengono e come tu stessa sostieni. Lo può affiancare, può affiancare il dollaro e l'euro come moneta internazionale, ma non lo può sostituire e mi sembra anche che non rientri nei piani, nei progetti della dirigenza cinese, quella di sostituire il dollaro. Non può farlo perché? Perché un paese che si pone come banchiere mondiale, come il paese che mette la unita o fondamentale moneta internazionale, deve avere una bilancia di pagamenti sostanzialmente, sistematicamente in deficit, cioè sia il conto corrente sia il movimento di capitale, India, o l'uno o l'altro in deficit, nel senso che la loro somma deve dare un deficit, perché questo deficit viene pagato con le emissioni di moneta che gli altri paesi accettano come strumento di riserva. Il problema della Cina è che ha un conto corrente sistematicamente in surplus e un moneta di capitale sistematicamente in deficit, cioè esporta molti capitali. La cosa interessante, sto proprio guardando in un'unità fa i dati statistici, l'ammontare del deficit nel precedente trimestre del 2022, il deficit del conto corrente è praticamente identico, scusate, il surplus del conto corrente che è praticamente identico al deficit del moneta di capitale. Quindi non ha quel grosso deficit che le consentirebbe di emettere una moneta internazionale accettata come strumento di riserva. D'altra parte le autorità cinesi già all'indomani della crisi del 2007-2009 crescero una proposta che mi sembra che la spiego continuando a portare avanti, cioè di sostituire il dollaro o di affiancare il dollaro con una moneta emessa dal Fondo Monetario Internazionale o da un organismo comunque internazionale. Si parlava all'epoca, ma ancora adesso, di diritti speciali di prelievo e tu stessa parli di diritti speciali di prelievo. La Cina ha avuto un aumento del peso della propria quota nel Fondo Monetario Internazionale che le consente di contribuire a questo paniere di beni, di merci, scusate, di moneta internazionale che dovrebbe andare a costituire la nuova moneta internazionale. E a me sembra che loro si stiano muovendo in questa direzione. Tra l'altro, tu stessa vai notare che Morgan Stanley prevede che entro il 2030 tra il 5 e il 10% delle riserve internazionali di valuta dovrebbe essere costruito dallo yuan. Ed è plausibile. Probabilmente andiamo verso un sistema in cui il 50% saranno dollari, il 20% saranno euro e un 10% sarà yuan. Il resto, diciamo, yen, sterlina e diritti speciali di prelievo. Qual è l'implicazione di questa cosa qua? L'implicazione è che appunto la Cina non può e la TAN non vuole aspirare a costituire un nuovo sistema imperiale unipolare, ma mira piuttosto, quello che è nelle sue possibilità, cioè a creare un sistema tripolare in cui la Cina pesa quanto gli Stati Uniti e quanto l'Europa, ma non di più. Ecco, io vorrei che si discutesse di questa cosa qua perché mi sembra particolarmente rilevante. Sì, Ernesto ci ha portato già, diciamo così, nel secondo quadro che abbiamo pensato di vedere dopo, però mi pare normale che si intrescia. Quindi io adesso sentirei, io ho visto Franco e Giovanni che avevano, Giovanni aveva fatto vedere un dito. Roberto, ci stisci tu? La parte di conversazione, sì, la parte di conversazione, la parte di conversazione, sì, avevamo detto così. Poi replicate te alla fine e dopo insieme a Fiammetta. No, ma è un'implicazione dispiaciuto per la situazione del partito che dice no, io... No, però adesso il partito dobbiamo levarlo. Allora, Franco Giovanni, chi è? C'era prima Giovanni. Prima Giovanni, avevo visto il dito di Giovanni. Mi sentite Roberto? Sì, 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 sì. Sì, no, io innanzitutto ringrazio Fiammetta per il suo bel lavoro e condivido in larga, in larghissima parte. Io più che intervenire, molto interessante anche il tema che è stato posto ora da Ernesto, io più che altro pongo una domanda a Fiammetti, a voi tutti, che ci può aiutare anche per la nostra attività, sono attività politica di fondo, siamo strategica e immediata. Parto da una discussione, una chiacchierata che abbiamo fatto presentando proprio il giorno dopo, ieri, la grossa manifestazione, la manifestazione di Roma del 5 novembre, ma anche quella di Napoli, che è stata molto interessante, non solo militante, peraltro molto partecipata anche a livello operaio e dei disoccupati, che abbiamo fatto appunto con Emiliano Brancaccio, che uscirà fra pochissimo, fra il 25 novembre, il suo testo, la guerra capitalista. Un attimo, Giovanni, ci sono dei microfoni aperti, che vanno spenti, soprattutto se qualcuno è impegnato in altre conversazioni. Dicevo, un testo che si chiama La guerra capitalista, che ha scritto insieme ad altri due autori. Lui pone, fra l'altro, un problema che mi sembra interessante per la nostra discussione, partendo ovviamente dal dato di fondo delle manifestazioni, dal nostro punto di vista, dal punto di vista del sindacalismo conflittuale nostro, cioè giù le armi e sui salari. La tesi che abbiamo discusso è che stiamo attraversando, dice Emiliano, una fase della crisi capitalistica, che è dominata, non a caso la guerra, da una pericolosissima unità di intenti, fra, dice, speculatore e guerra fondai. E l'inflazione appunto è alimentata, in questo ambito, dalla voglia appunto dei capitalisti, che sono in posizione di maggiore forza, ovviamente di far esplodere i profitti, quindi a scapito, quindi ovviamente dei concorrenti più deboli e soprattutto della classe lavoratrice, come sappiamo. Quindi la prosecuzione della guerra non fa che alimentare questa spirale. Qual è il tema? Il tema è che, appunto, si tratta di guerra globale, insomma, l'abbiamo discusso anche in altre discussioni appunto al nostro osservatorio, la questione del territorio in qualche modo diventa strumentale, cioè la questione del territorio, cioè l'aggressione della Russia all'Ucraina, in qualche modo nasconde inconsapevolmente o consapevolmente ragioni più profonde, per quanto sia appunto grave ammetterlo. Cioè esistono terre di confine, questa poi è la tesi, la seconda parte del libro anche di Emiliano, esistono terre di confine che costituiscono il pretesto da cui far partire un conflitto capitalistico di portata globale che cova da tempo. Per spiegarlo, l'interpretazione che dà anche Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli, partono dalla scelta e gli Stati Uniti, loro e dalla loro analisi delle agliate occidentali, di adottare misure protezionistiche presentate sotto il nome di sanzioni, appunto, portate avanti, quindi dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dalle banche internazionali, dalle grandi strutture internazionali. e mi riferisco a quello che diceva anche Ernesto prima, cioè sanzioni non solo contro la Russia ma anche e soprattutto contro la Cina perché sostengono l'inizio delle sanzioni americane occidentali, risalgono a molto prima dell'invasione Russia e dell'Ucraina e sono dovuti anche al fatto che nel regime del libero scambio globale gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri paesi occidentali, anche loro alleati, hanno accumulato un enorme debito verso l'estero. Ricordate che l'abbiamo discusso anche un paio di riunioni fa. ha accumulato un enorme debito verso l'estero e appunto in primis verso la Cina. Ma non dimentichiamola anche contro la Russia e contro per esempio molti paesi arabi, molti paesi medio orientali. Quindi, e mi taccio, la domanda e la tesi qual è? Che io devo dire condivido abbastanza, comunque ovviamente nel libro di Emiliano, di Giametti di Ucarelli è lì focalizzato come punto fondante, quelle che oggi vengono chiamate sanzioni e che sono state utilizzate anche nel passato ma oggi diventano base fondamentale per una guerra globale insieme al problema della poneta che imponeva già Ernesto su cui sono abbastanza d'accordo, anzi d'accordo. Oggi, diceva Emiliano, le chiamano sanzioni ma in realtà è una continuazione del protezionismo di fronte al passaggio appunto dal secolo americano al secolo cinese e in vista appunto del predominio globale degli Stati Uniti, dei suoi alleati e dell'Unione Europea che non esiste più in quanto tale, ma come dato di vassallaggio, come dato servile. Quindi sanzioni diciamo come continuazione del protezionismo dentro la guerra globale. Ecco, mi sembra ovviamente una visione particolare però mi sembra un punto, come dire, abbastanza inedito di analisi che io credo poi il fatto che uscirà fra dieci giorni il libro di Emiliano che poi presenteremo in Dottitalia certamente, insomma, questo punto diventerà un tratto di discussione. Insomma, volevo capire cosa noi come osservatorio ne pensassimo, cosa ne pensano Fiammetta, Mauro, Roberto, nelle loro conclusioni. Grazie. Grazie Giovanni. Chiudiamo questo primo giro con Franco in modo che poi Fiammetta risponde di una brevissima cosa dopo Franco. Io sarò, spero, assolutamente breve. Io mi sono già congratulato implicitamente con il libro e la scrittura di Fiammetta facendo la presentazione di questa giornata, quindi non devo ulteriormente, diciamo, complimentarmi. Il primo punto che volevo sottolineare però è questo. Secondo me il valore del volume del libro di Fiammetta sta innanzitutto nel fatto che ha la forza, lei tant'è vero un po' se ne lo scrive con molta prudenza, diciamo così, ha la forza di dire che il mondo è dominato dal capitalismo, non un solo capitalismo, come dice Branko Milanovic, ma da una pluralità di capitalismi. Questo, secondo me, nel nostro osservatorio, nel nostro gruppo di lavoro, diciamo, nella nostra piccola comunità è un dato abbastanza acquisito, però, diciamo, pubblicamente il fatto che si dica l'autoritarismo, il regime autoritario, cioè, nasconde poi, fa davvero al fatto che comunque il nostro pianeta Terra è dominato dal capitalismo, quindi che poi possa essere frammentato, conflittuale, articolato diversamente dal punto di vista istituzionale, però questo mi pare un punto da acquisire molto importante. Questo lo dico soprattutto, diciamo, per noi che veniamo da una storia comunista, no, che abbiamo sempre una certa quale, diciamo così, suggestione di fare le distinzioni la Russia, la Cina, però Cuba, Cuba, il Venezuela, eccetera, eccetera. Quindi questo mi pare il primo punto. Un secondo punto è questo, invece, che anche qui è una domanda che parte da questo. Secondo me, oggi, piuttosto che parlare di geopolitica, bisogna parlare di geo-economia. Lo dico perché, leggendo, insomma, un volume che non è dedicato a questi problemi, diciamo, del mercato mondiale, ho trovato questa riflessione da parte di un esponente del Dipartimento di Stato, che io vorrei leggervi, perché secondo me è abbastanza interessante appunto ne spiegare perché bisogna parlare di geo-economia e non più di geopolitica. Dice questo esponente, negli anni quaranta e cinquanta il Dipartimento di Stato fece valere la considerazione per cui i rivoli geopolitici erano ininfluenti nelle dinamiche economiche internazionali. Questo stiamo parlando degli anni quaranta e cinquanta. Quindi che cosa, implicitamente, si chiama Temple, dice questo signore, dice che mentre negli anni quaranta e cinquanta i rapporti di forza militari, i rapporti non influivano, non erano in grado di influire sulle dinamiche commerciali e produttive dei vari sistemi, oggi invece i sistemi sono o intrecciati o comunque, diciamo così, vanno verso una certa equipollenza per cui i rapporti di potere militare, innanzitutto, i rapporti di potenza fra le varie aree del mondo incidono direttamente sulla sicurezza dei commerci e quindi delle capacità produttive. Questo si riferisce ovviamente anche alle catene del valore. Quindi a me la prima domanda è proprio questo, cioè se Fiammetta ritiene che appunto si debba parlare, o come al solito estremizzato per rendere chiaro l'idea, di geoeconomia nel senso che c'è un intreccio nuovo fra politiche d'economia, fra stati economie, fra istituzioni delle grandi aree in cui il mondo si va dividendo, cioè le tre aree che diceva Ernesto, e l'economia. Oppure bisogna ritornare, diciamo, alla vecchia idea dei realisti della geopolitica. L'ultima considerazione, anche se previene quanto potremo eventualmente discutere sull'ultima parte, è questo. Dice Fiammetta, io sono una, diciamo, sostenitrice dello Stato. Io oltre lo Stato non vedo altro. Ecco, io qui, Fiammetta, invece mi permetto di dissentire, anche se tu sei costituzionalista, io sono un semplice cittadino, un semplice lettore. Io penso che invece noi dobbiamo saper leggere le dinamiche politiche attraverso le attività oltre lo Stato. E l'esempio dico è proprio l'Unione Europea, nel senso che non bisogna, diciamo così, avere il pregiudizio che siccome l'Unione Europea non è strutturato come uno Stato che noi abbiamo conosciuto, cioè lo Stato classico, il Parlamento, il governo, l'esercito, eccetera, eccetera, l'Unione Europea non sia un'entità politica. Io vorrei ricordarti, ma appunto lo dico, insomma, anch'io con una certa prudenza, che anche Pufendorf disse del Reich tedesco, il latino l'ho mai perso, ma c'è Marina quindi che potrà aiutare, disse, irregulare aliquot corpus et, tanto un non mostro simile, e Pufendorf, adesso traduco proprio invece brutalmente Marina, Pufendorf va a dire, certo, il Reich è un mostro, perché appunto non c'ha la struttura dell'Inghilterra, non c'ha la struttura della Francia, eccetera, eccetera, quindi di uno Stato centralizzato, però è sempre un'entità politica. Ecco, io non vorrei che noi, siccome l'Unione Europea non ha le caratteristiche che noi abbiamo, che conosciamo tradizionali dello Stato, non la vedessimo invece come un'entità politica, tra l'altro un'entità politica molto forte, poi forte rispetto alla Cina e agli Stati Uniti, non so quanto quantificarla, comunque una presenza significativa. Il fatto che noi, Fiammetta, non abbiamo categorizzato ancora, modellizzato il modo di funzionamento dell'Unione Europea, non toglie il fatto che quella è un'entità politica, un'entità politica molto significativa. Sì, ecco, Fiammetta, mi pare che, diciamo, un pochino sono andati già nella seconda parte che volevamo trattare e quindi mi metto qui brevissimamente in modo che, secondo me, puoi anche un po' dilungarti anche sulla questione cinese e poi proporrei un secondo blocco sulla vicenda del neoatlantismo e quindi cominciate a pensarci e a pensare di fare domande su questo. Molti hanno interlocuito un po' con il tema impero, imperialismi, eccetera, però questa questione cinese tu la metti giù abbastanza tua, insomma, cioè sei quella che dice che con Xi Jinping c'è un salto di qualità rispetto a Deng, insomma, diciamo, e quindi calchi molto la mano e dici che viene al pettine la capacità di organizzare una risposta di forza molto significativa rispetto addirittura a Bretton Woods. la prendo da qui perché la domanda che faceva Screpanti tu dici, preso atto per gli Stati Uniti con la dottura di Bretton Woods e hanno assunto l'egemonia attraverso non più solo il militare ma il finanziario, lì la sfida diventa tutto tondo sulla finanza e naturalmente diventa anche su tutto all'apparato di concezione della globalizzazione. Ecco, magari nel rispondere a loro esauriamo anche un po' per quello che si può, poi ci torneremo anche a questo tuo giudizio molto radicale sulla Cina, insomma. Sì, sì. Ecco, grazie. Allora, io mi sono segnata i punti. e forse partirei da quello che ha detto Giovanni per poi arrivare alla questione finanziaria e dello yuan. Giovanni parlava di questo nuovo volume che stiamo attendendo con ansia, almeno io, di Emiliano Brancaccio e quello che scriverà, ho capito, Emiliano Brancaccio nel suo libro è una tesi che io riporto alla fine del mio libro che è stata esposta da un ex generale dell'aeronautica cinese che si chiama Kiao Liang che ha scritto un libro bellissimo che si chiama L'arco dell'impero che consiglio di leggere perché lui dice esattamente esattamente, poi non lo so quello che di preciso scriverei Emiliano ma lui scrive che le grandi potenze oggi vanno a sfrugugliare, si dice dove sono nata io cioè vanno a creare conflitti non direttamente a casa dell'antagonista ma nei territori limitrofi proprio perché in questo modo riescono poi tra di loro a dialogare, si fa per dire attraverso la deterrenza militare, finanziaria eccetera eccetera e quindi questo secondo Kiao Liang è un modus operandi tipico degli americani che quindi creano conflitti vicino ai confini russi obbligando la Russia a reagire creano situazioni di contrasto obbligando gli altri stati a reagire e quindi obbligando poi il resto del mondo ad assumere delle posizioni che si trasformano nel tempo io credo che questo sia molto vero cioè ripeto ho trovato questo libro interessantissimo penso che dica delle cose esatte ma mentre questo appunto scrittore cinese ripeto è un ex militare cinese attribuisce questo tipo di comportamento esclusivamente agli Stati Uniti in realtà poi guardando in casa propria non vede quanto anche la Cina si comporti alla stessa maniera si comporta alla stessa maniera soprattutto attraverso attraverso questo suo neocolonialismo che ha posto in essere con il programma sulle nuove vie della seta perché la Cina non ha fatto altro che andare a casa degli altri stati in particolare degli stati più poveri del mondo a offrire denari in cambio dello sfruttamento però delle loro materie prime dei loro porti delle loro terre rare oltretutto e qui mi aggancio a quello che diceva Ernesto mettendo in piedi tutto un sistema bancario finanziario che ruota intorno allo yuan perché i prestiti delle nuove vie della seta sono fatti sono effettuati in yuan e la Cina ha creato dal nulla delle banche alle quali poi hanno partecipato anche altri stati c'è stata una corsa a partecipare a questi organismi finanziari internazionali orientali perché perché lì c'era c'era il nuovo capitalismo che avanzava cioè e quindi in parte ecco riprendo anche quello diceva Franco Russo sì per me il mondo ormai è un mondo fatto di capitalismi non c'è più un sostrato ideologico mentre fino alla fine della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica si trattava sicuramente di un problema di potere ma erano almeno l'Unione Sovietica che era sorretta da un'ideologia era sorretta da un'ideologia e non si era inventata le nuove vie della seta cioè era l'ideologia del partito comunista sovietico e che ha avuto anche delle storture per carità di Dio però puntava ad un'organizzazione diversa un'organizzazione dello Stato, dell'economia dell'erogazione dei servizi pubblici del lavoro era tutto molto diverso da quello che oggi invece mi sembra stia accadendo in Cina quindi il contrasto fra Cina e Stati Uniti secondo me non è ideologico ma è proprio uno scontro fra economie tra potenze economiche e in questo assolutamente si deve parlare di geoeconomia e non di geopolitica perché lì che si combatte anche se c'è purtroppo c'è l'aspetto militare che non possiamo trascurare perché sia la Cina che gli Stati Uniti sia in Cina che negli Stati Uniti il militarismo è spintissimo la Cina ha investito centinaia di miliardi di dollari per l'ammodernamento dell'esercito cinese per le nuove tecnologie che è entrata sta collocando proprie basi militari in territori tipo a Djibouti dove prima non cioè fin quando c'è stato Deng non ci pensavano proprio ad andarsi a collocare militarmente nel resto del mondo quindi effettivamente per me lo spartiacco è stato proprio l'avvento al potere di Xi Jinping che ha una concezione del mondo diversa cioè molto basata sulla volontà di potenza e sul voler fare della Cina una superpotenza mondiale io non credo nel tripolarismo io credo che stiano puntando al bipolarismo cioè Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra il resto del mondo in qualche misura attratto o nell'orbita degli Stati Uniti o nell'orbita della Cina ma la sensazione che ho avuto io appunto studiando questi temi è che poi sia un po' questo l'assetto che vorrebbero congelare queste due potenze per farlo sicuramente c'è bisogno anche della finanza io non lo so se la Cina riuscirà mai a far sì che lo yuan si sostituisca al dollaro come valuta di riserva o come valuta di riferimento negli scambi commerciali internazionali di sicuro ci sta provando con tutte le sue forze però perché è di pochissimi mesi fa per esempio l'accordo che ha sottoscritto con l'Arabia Saudita per l'acquisto di petrolio e ha imposto all'Arabia Saudita il pagamento Saudita il pagamento in yuan un'altra cosa su cui la Cina è molto avanti rispetto agli Stati Uniti ad esempio è la valuta virtuale cioè la Cina ha già fatto il Li Renminbi che è l'altro nome dello yuan e sta già operando attraverso la valuta virtuale quindi la criptovaluta di Stato però e e ora gli Stati Uniti sono svegliati si sono accorti che forse su questo la Cina li ha ben superati e stanno provando anche loro attraverso la Fed a fare un dollaro virtuale però sono indietro rispetto alla Cina quindi non sono sicura che non ci riuscirà mai questo veramente non lo so di sicuro ci sta provando ci sta provando attraverso tutte queste organizzazioni finanziarie internazionali attraverso il la forza che ha di imporre a livello contrattuale lo yuan al posto del dollaro perché per aver accettato yuan invece di dollari vuol dire che la Cina gli stava comprando non so quanti miliardi di tonnellate di petrolio allora questa è la forza contrattuale che fa sì che una valuta poi si imponga nonostante nonostante le asimmetrie che evidenziava Ernesto e Fiammetta fermiamoci un attimo qua proporrei adesso di inserire anche altre parti del libro che sintetizzo rapidissimamente che sono il la dialettica statunitense tra trumpismo e neoatlantismo e quando parlo di neoatlantismo a quel punto ci metto dentro anche l'unione europea insomma come articolazione di questo neoatlantismo anche lì sei abbastanza articolata nella tua ricostruzione dei fatti tra da Obama a Trump e adesso a Biden e la vicenda è aperta domani si vota come ricordava prima Mauro e anche sull'unione europea è evidente che la bussola strategica ho visto che lì si parla di sovranità non alimentare ma di sovranità tecnologica esatto ne ha parlato quasi nessuno di questa sovranità tecnologica particolarmente militare anche se poi l'unione europea deve decidere visto che l'altra bussola è il mercato se queste armi le fabbrica oppure le compra sul mercato come ha fatto con i farmaci eccetera eccetera ecco se potete magari far mente locale anche su questo in modo che inseriamo anche quest'altra dimensione che è ugualmente accurata anche se quella cinese ha preso più spazio nel libro e anche in questa discussione e però è una composizione importante per arrivare alla soluzione se una trappola di giudiciti scatta o no o per esempio se l'unione europea è una vittima sacrificale o sta lì in attesa di spartire il bottino come penso io io penso che sono trent'anni che le borghese europee pensano di spartire il bottino sia in termini di rapporti sociali che di pezzi di territorio ho scoperto che abbiamo una cooperazione militare l'Italia con l'Ungheria che non sapevo che avessimo e anche io ho scoperto cose che mai avreste però tu l'hai fatta scoprire a noi quindi se interveniamo anche su questa parte in modo che poi Mauro magari può fare una sua replica e Fiammetta conclude io invece mi intaccio definitivamente e un po' di tempo chiudiamo questa conversazione se posso farei una provocazione proprio su l'unione europea perché Franco mi diceva oltre lo Stato c'è l'unione europea che sono è un'entità politica e oltre lo Stato allora lo Stato perché perché lo Stato è l'unico che può redistribuire il reddito che può rispondere ai bisogni che sì che può diciamo trasformarsi in Stato sociale e quindi rispondere ai bisogni della popolazione l'unione europea in tutto ciò appunto io il tripolarismo non lo vedo perché l'unione europea non c'è come grande potenza l'unione europea è appiattita ha provato a esserci ha provato a esserci ma ha fallito e quindi è appiattita sotto le posizioni statunitensi dal punto di vista militare è appiattita anch'essa sotto le posizioni diciamo mondiali dal punto di vista economico perché il libero vabbè il mercato il libero mercato è l'ideologia su cui è nata l'unione europea quindi io sono ero un europeista convinta ma questa Europa così è destinata a non esserci cioè per forza a prendere posizione verso l'occidente e quindi verso gli Stati Uniti perché non può scapparsene a Oriente ma in questo modo secondo me non avrà mai una sua identità fermati qui nella provocazione perché è stata accolta da Andrea Amato devi accendere il microfono Andrea sì non avevo capito che mi stavi dando la parola allora innanzitutto io devo fare i complimenti a Fiammette il libro non solo mi è piaciuto ma direi che lo potrei sottoscrivere a una percentuale elevatissima allora sulla quindi mi limito semplicemente a fare solo qualche sottolineatura abbastanza sulla questione della sudditanza dell'Unione Europea agli Stati Uniti alla Nato eccetera tu fai molti esempi anche storici eccetera a me è venuta in mente una cosa che ho vissuto in prima persona sulla quale ho sbattuto il naso e ai tempi della dichiarazione di Barcellona e della fondazione del partenariato euro-mediterraneo nella dichiarazione di Barcellona c'erano anche lì tre pilastri uno politico uno economico l'altro sociale quello politico era proprio il partenariato politico e di sicurezza e si faceva tutta una serie di bellissime intenzioni che riguardavano il Mediterraneo la pace il Medio Oriente eccetera cose bellissime peccato però che al momento poi di diciamo di dare la stesura definitiva della dichiarazione di Barcellona ci misero una premessa in cui si diceva che in ogni caso non si intende sostituirsi ad altre azioni iniziative a favore della pace nella regione il che vuol dire che non bisognava dare fastidio agli Stati Uniti e pensate che in quel momento si veniva fuori dalla conferenza di Madrid da Oslo eccetera vuol dire tutte cose volute dagli Stati Uniti e che poi hanno dato l'esito che hanno dato quindi diciamola questa sudditanza ha una storia non solo lunga ma continua 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 l'altra cosa che mi è piaciuta per esempio è quando Fiammetta dice che questo tentativo dell'Unione Europea di darsi un'autonomia strategica anche attraverso la difesa è appunto un esercito senza Stato un po' come è stato l'Euro senza Stato e quindi diciamo il metodo funzionalista applicato anche alla difesa un metodo che ovviamente sappiamo tutti quanto sia stato fallimentare tra l'altro diciamo che i tentativi della Francia di portare avanti l'autonomia strategica alla francese un po' come tu sostieni insomma ed è esattamente così noi li ritroviamo cioè c'è una coerenza anche con la posizione della Francia di Macron eccetera per quanto riguarda il superamento dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio cioè quello che la Francia vorrebbe è una Unione Europea in cui a questo punto non sia bloccata così dal fatto che non si smette mai d'accordo a 27 eccetera eccetera ma con l'eliminazione del metodo diciamo dell'unanimità del veto del diritto di veto anche di uno solo degli stati membri a quel punto il Consiglio diventerebbe una sorta di direttorio e il problema lì è che loro vorrebbe che fosse un direttorio a direzione francese la Germania non è d'accordo e quindi mi sembra che poi alla fine il risultato non cambi ultima cosa per quanto riguarda le prospettive allora io sono anch'io d'accordo sul fatto che l'economia sempre più definisce gli assetti del mondo e quindi anche su questa cosa della globalizzazione mi sembra averla già detto in un'altra occasione io non penso che stiamo andando verso la fine della globalizzazione ma c'è un'altra globalizzazione una riglobalizzazione che si articola in territori in campi in campi diversi e ognuno con le sue regole ognuno e questo in qualche modo dà sostanza anche all'ipotesi che veniva fatta prima che tu stessa facevi prima di un avvio verso un bipolarismo che tu nel libro chiami allargato io chiamerei piuttosto imperfetto insomma piuttosto ora si va verso questa cosa ora teniamo conto che al momento non non è ancora così al momento siamo da un punto di vista geopolitico dell'assetto geopolitico siamo in un assetto multipolare sbilanciato in qualche modo però come tu stessa e non solo tu avete sottolineato e diciamo caratterizzato da un conflitto permanente che non è soltanto le guerre per procura quella è la cosa più appariscente ma è un conflitto multidimensionale attraverso tutte le diciamo le cose che sappiamo dalle tecnologie eccetera eccetera allora in questo quadro e qui mi riaggancio all'ultima parte del dell'articolo introduttivo che ha fatto Franco a questa nostra riunione in cui lui diceva l'Europa che non c'è ecco per esserci l'Europa dovrebbe rompere le dinamiche capitalistiche spezzare il potere oligarchico e fa una lunga una lunga un lungo elenco di cose che il che l'Europa dovrebbe 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 fare ora mi sembra che che è un po' però tutti quanti colorano questo ragionamento di una nota negativa l'Europa non c'è andiamo verso verso lo sfascio però mi sembra che invece nel tuo libro Fiambetta per la prima volta diciamo nel nostro ambito io vedo con forza scritto che la soluzione è l'Europa federale l'Europa federale non è altro che uno Stato portato a una dimensione diversa in cui la sovranità non è più nazionale nei termini del paese membro ma è una sovranità europea intesa come Stato federale europeo ora questa cosa secondo me è l'unico modo diciamo per perché l'Europa possa esistere altrimenti voglio dire ci adattiamo a a diventare come dire sudditi sudditi degli Stati Uniti ora uno può dire io preferisco essere suddito della Cina e non degli Stati Uniti ma mi sembra che insomma l'alternativa ecco non sia sempre sudditi siamo sempre sudditi siamo ecco Andrea non ha fatto domande ma ha dato risposte quindi bene così no io no e vabbè le domande in queste case sono finte parliamoci e quindi è meglio essere espliciti e dire uno quello che pensa allora c'è Mauro che vuole appunto dire la sua la sua va bene se poi qualcun altro ancora e poi così Fiammetta chiude siamo in tempi decenti dal punto di vista della resa non so se Alessandro sono i Stati Uniti Pasqualino non so Mauro vorrei un attimo continuare il ragionamento del primo perché l'ho accendato e credo appunto che quando parlavo di apertura della fase storica dovremmo fare uno sforzo per proiettare in avanti i ragionamenti allora è chiaro che la crisi attuale che assume le forme che stiamo descrivendo nasce da una difficoltà di crescita nel modo di produzione capitalistica nel senso lo sviluppo di questo modo di produzione ha toccato dei limiti adesso non è il merito dei limiti però sono limiti anche del livello di sviluppo delle forze produttive probabilmente per superare questa crisi ci vorrebbe un ulteriore salto qualitativo sul piano delle forze produttive che allo Stato non emerge non si afferma almeno come un salto forte non come continuato di quello che in qualche modo già c'è stato ma su questo non voglio entrare in questo questa impossibilità di crescita determina questa rottura però non è una rottura diciamo di ritorno ai singoli paesi la questione dei capitalismi e degli imperialismi si pone dagli anni 90 perché non so se vi ricordate c'è la vicenda del Giappone che negli anni 90 provò a fare uno schiatto di Reni e ci fu una crisi finanziaria prodotta proprio dagli Stati Uniti per cui la fine dell'Unione Sovietica ha riprodotto cioè ha rotto quello che era l'impero perché prima c'era l'impero a occidente diciamo tra virgolette ovviamente è un po' quello che poi ha detto Doni Negri nei decenni successivi e ha prodotto degli imperialismi oggi il problema cresce non è che abbiamo superato dalla rottura del mercato mondiale si ripropone appieno la possibilità di crescita di sviluppo del mercato di controllo dei mercati della questione finanziaria che è una dei terreni di scontro più importanti che ci stanno a livello a livello mondiale l'idea come l'ipotesi ecco parliamo di ipotesi e non di tesi ma l'ipotesi è che questa possibilità di ritrovare i margini di crescita non sono più generali ma sono dati per aree economiche diciamo che oggi le possibilità sono due una diciamo la schematizzo euro-trantica e una euro-asiatica cioè la possibilità di crescita si può ritrovare si tenta di ritrovare all'interno di queste di questa nuova dimensi ovviamente questa cosa qua implica c'è tutta una serie di effetti la cosa che diceva Giovanni prima le sanzioni come forma di protezionismo sono un po' una fotografia di questa cosa qua nel senso che oggi le sanzioni vanno a sapere i confini tra queste due aree tra l'area euro-asiatica e l'area euro-atlantica ripeto è un'ipotesi però credo che vada considerata dentro questo confronto che ovviamente però implica anche altre subare per esempio i paesi arabi per esempio appunto altri altri pezzi del mondo l'Africa pezzi dell'Africa per esempio Sudafrica è un'area sessante l'America Latina per altri versi anche se la Maria Latina c'è ancora la subordinazione comunque all'Occidente queste due aree ce n'è una che ha potenzialità di sviluppo grandi che è quella europea-asiatica cioè non è un caso che stessi stanno come dire avendo relazioni tra i grandi paesi asiatici Russia India Iran e Cina dove il dato polibro viene completamente rimosso può essere un paese che si chiama il socialismo può essere islamico può essere autocratico Russia o altra ancora ma quello che conta è la possibilità che questa area dà di crescita e io le queste cose qua per esempio in Asia sia abbastanza chiara mentre nell'area euro-atlantica c'è più omogeneità politico-culturale cioè l'imperialismo storico può sostanzialmente ma ci sono una serie di contraddizioni abbastanza serie per esempio è chiaro che lo sviluppo in Europa e negli Stati Uniti è limitato non c'è stanno in nord sono aree sapori dal punto di vista del mercato perché c'è un livello di ricchezza addirittura si riduce il reddito dei lavoratori o comunque del lavoro subalterno e dunque si limitano le possibilità di mercato c'è la crisi finanziaria che è stato lo strumento che ha permesso il superamento per esempio della crisi del 2007 del 2008 il mantenimento dei livelli e poi ci sono altre contraddizioni che fanno riferimento all'Africa dove ci sta uno scontro forte tra schiamatizzo però se lo dico tra blocco euroasiatico e blocco euroasiantico vedi il Mali e poi c'è l'America Latina per cui in realtà sta accadendo potrebbe accadere sempre per ipotesi che c'è una parte del mondo che può avere una crescita autonoma dal resto del mondo e un'altra parte del mondo che è quella che ha determinato l'egemonia in questi in questi secoli in questo ultimo secolo che oggi invece c'ha grosse contraddizioni all'interno e ha una possibilità di crisi politica la vicenda di Trump e degli Stati Uniti poi chi c'ha pienamente magari potrà supportare questo tipo di ragionamento non è una crisi politica quella è una crisi strutturale degli Stati Uniti che è fatta se poi c'è la borghesia e la borghesia che è in contraddizione del finale finanziario che invece è globalizzata che è fatta di una forte presenza di immigrati e dunque il problema che ti rombo come provocazione è la rivoluzione in Occidente scusatemi per l'esagerazione però noi stiamo in una condizione in Europa e negli Stati Uniti e in Occidente incluso Occidente internazionale Africa e America Latina non intendo solo i paesi imperialisti in cui le contraddizioni potrebbero nel corso nello sviluppo diciamo dei prossimi anni avere un carattere di rottura molto più marcato di quanto noi oggi possiamo immaginare d'altra parte negli anni 90 noi non ci immaginiamo la crisi degli Stati Uniti me la butto là così come ragionamento comunque vi dico che come rete dei comunisti stiamo preparando per fine anno i primi del prossimo anno proprio un forum sulla questione della frammentazione del mercato mondiale che un po' riprende questi temi ovviamente invito tutti quanti a partecipare poi forniremo il materiale la documentazione gli inviti specificheremo diciamo il tipo dei contenuti però mi sembra un po' che questo è il livello con cui siamo chiamati a misurarci noi che appunto come diceva prima Frank in qualche modo siamo o facciamo riferimento all'idea di rivoluzione sociale bene Mauro praticamente appunto ha dato un ulteriore contributo rispetto a quello iniziale se non ci sono altri vedo che degli Stati Uniti aspettare tutti domani di sapere chi vince perché non vi pronunciate se avete paura di fare brutta figura direi che Fiammetta può fare un intervento conclusivo e ci ci lasciamo io sono soddisfatto di questa chiacchierata Roberto scusa se no prima di Fiammetta poi tutti ci lasciano vorrei semplicemente ricordare che Alessandro ha preso l'impegno questa la facciamo dopo perché adesso siamo in diretta Facebook e quindi se no perdiamo i nostri spettatori di Alessandro posso dire che ha scritto recentemente sui Stati Uniti sul sito di Trasform quindi leggete lì Fiammetta allora questa trappola di Tucidide scatta o ci abbiamo qualche chance come dice Mauro? Io non penso che scatti non penso che scatti intanto perché vabbè intanto perché lo studio la casistica che è stata analizzata per elaborare la tesi della trappola di Tucidide è veramente molto bassa cioè se non ricordo male sono sedici o diciotto stati una cosa del genere in cui in non tutti i casi poi è scattata la guerra quindi non penso che scatti non per motivi di statistica ma perché secondo me non è né interesse degli Stati Uniti né interesse della Cina quello di far scoppiare una guerra per parlare di loro due ma non penso che sia interesse di nessuno cioè qui secondo me il vero problema è che si stanno Oriente e Occidente mettiamo se non vogliamo parlare degli Stati Uniti e Cina siamo il più generalisti possibile stanno cercando di accaparrarsi il predominio mondiale dell'economia della finanza delle terre rare di cui noi abbiamo parlato tante volte cioè che non hanno né gli Stati Uniti né la Cina ma hanno tutti gli altri paesi di cui ha parlato Mauro quindi no io credo che si arriverà cioè si tornerà ma secondo me già ci siamo adesso in una sorta di questa specie di guerra fredda due punto zero in cui ci si minaccia a distanza c'è l'uso dell'intelligence l'uso di altri stratagemmi piccoli o grandi che siano ma si terranno così con con la Cina che fa manifesta muscolarmente il suo la sua potenza militare passando sopra Taiwan gli Stati Uniti che fanno altrettanto schierando le navi nel Pacifico che interesse hanno a finire in una guerra mondiale nessuno non ci guadagnerebbero più negli Stati Uniti nella Cina invece adesso loro sono quelli che ci stanno guadagnando di più io io non penso che l'area di crescita è l'Oriente perché si sono messi insieme India Iran Russia e Cina io penso che tutti questi stati si sono messi sotto l'ala protettrice della Cina perché hanno capito che senza una grande potenza che gli diciamo così che gli dia una protezione a livello mondiale non possono far niente contro gli Stati Uniti e non possono far niente perché gli Stati Uniti lo sappiamo da sempre brigano per non perché gli Stati Uniti sono buoni belli buoni bravi ma perché hanno sempre si sono sempre mossi in un determinato modo allora di fronte all'impossibilità di reagire c'era bisogno di un'altra grande potenza e questa grande potenza è stata vista qual è è la Cina è quella che è esplosa però la Cina non è che sia Santa Madre Cina perché la Cina ha un surplus di produzione mostruoso ripeto non ha materie prime non ha terre rare quindi tutto quello che fa la Cina che sembra che magari lo faccia perché vuole portarsi dietro nello sviluppo economico anche i cosiddetti paesi del terzo mondo in realtà lo fa per il proprio tornaconto purtroppo cioè qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio non è uno scontro fra ideologie è uno scontro fra capitalismi diversi ma sempre capitalismi sono per cui stavo leggendo gli appunti che avevo preso sulle ultime cose che diceva Mauro una crescita autonoma dal resto del mondo ma non è vero cioè secondo me la Cina senza l'Africa e senza l'America Latina che sono già state colonizzate dalla Cina non ha più non può più crescere perché al suo interno non ce l'ha più la forza di crescita è per questo che va all'esterno e poi dopo si comporta come un paese colonialista che se lo Sri Lanka non gli restituisce i soldi che gli ha prestato la Cina si prende il porto dello Sri Lanka diventa suo e buonanotte cioè purtroppo non è più la Cina di Arrighi di Adam Smith a Pechino è una non è più la Cina di Deng che addirittura nel famosissimo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU disse se noi diventeremo quando noi diventeremo una superpotenza autorizzo tutti quanti a mozzarci le mani non è più così perché la Cina è diventata una superpotenza sempre di più vuole egemonizzare quelle parti del mondo che non sono già nelle mani degli Stati Uniti ma anche quelle che sono nelle mani degli Stati Uniti perché gli fanno gola e lo fa per se stessa cioè per accrescere il proprio benessere purtroppo non quello del suo popolo però perché sapete benissimo la differenza che c'è fra il livello il pilprocapite delle delle campagne cinesi e invece il pilprocapite delle grandi città industriali cinesi c'è un dislivello mostruoso tra quello che accade nelle campagne e quello che accade nelle città industrializzate l'Europa gli Stati Uniti gli Stati Uniti lo dico io mi azzardo io io sembrerò una pazza ma secondo me gli Stati Uniti di Trump erano meglio degli Stati Uniti di Biden che devo dire cioè è un folle sicuramente però Biden chi è? è un un personaggio nelle mani di qualcun altro? cosa sta facendo Biden? fa a parte la guerra per procura ma a cosa punta veramente Biden? perché noi quando lo vediamo è un po' un gaffè ci sembra anche uno un po' mezzo rimbambito ma insomma per essere arrivato a quel livello proprio del tutto rimbambito non deve essere io però preferivo Trump che diceva l'America agli americani e faceva il protezionista piuttosto che Biden che va a fare guerra a destra manca tanto per essere proprio cosa succederà domani non lo so cosa è successo in America quando c'è stato l'assalto a Capitol Hill no non era Capitol Hill era la casa era Capitol Hill secondo me non è che Trump l'ha fatto da solo perché lì ci stanno i cecchini messi tutti intorno il raggio di 18 km forse anche di più di 100 km quindi io credo che sia stato consentito a quel personaggio strampalato che è arrivato fino a dentro a tutto quello che è successo è stato consentito perché qualcuno ha voluto che accadesse esattamente quello cioè che l'America sia ancora la terra degli intrighi delle manipolazioni io su questo non ho dubbi ovviamente ma purtroppo non è più la sola e questo è un male perché invece di migliorare l'America stiamo peggiorando tutti bene mi pare con questa nota di ottimismo Pasqualina non capisco se vuoi parlare perché vedo una penna no 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 ok va bene siamo nei tempi possibili per una registrazione per cui grazie a chi ci ha seguito un po' di persone non in diretta molte sicuramente ci seguiranno poi nella registrazione grazie a chi ha partecipato se Roberto Morea toglie adesso la diretta con Facebook possiamo vedere un po' di cose nostre anche dell'osservatorio oppure ci scambiamo